Elisa Ridolfi inizia a cantare da giovanissima. A sette anni entra nel coro polifonico di Fano formato interamente da bambini. In seguito studia canto con Stefano Vagnini, musicista e docente al Conservatorio Statale G. Rossini di Pesaro. Dopo il conseguimento del diploma di liceo classico, si trasferisce a Firenze per iscriversi alla Facoltà di Psicologia. Durante la permanenza a Firenze intraprende lo studio del canto classico presso l'Accademia Sun. Felice, nel 2000 inizia la collaborazione con il fadista Marco Poeta, uno dei pochi italiani a suonare la chitarra portoghese. Nel 2001, in seguito ad una intensa attività concertistica, esce il primo disco dal titolo Fado che vede la collaborazione di Eugenio Finardi, voce curatore dei testi italiani cantati da lui stesso nei Fados classici. Francesco Di Giacomo, voce del Banco del Mutuo Soccorso, che si presta a cantare in portoghese. In Ofado Elisa Ridolfi canta molti dei brani di Amlia Rodrigg. Il disco fu registrato alle officine meccaniche. Milano, di Mauro Pagani.